Animo un attimo, aperta un attimo, scherotto vola, elimina l'Italia e portaci l'Europa, cos'è che vive con? Scherotto vola, elimina l'Italia e portaci l'Europa, cos'è che vive con? E' il secchiere, e' il secchiere scherotto, chi me li ignora tu e questo lo sai benissimo perché a Catani, a Cesena hai detto meglio la Serie A che in B con l'Atalanta e questo te l'abbiamo detto l'altra volta, hai rifatto lo stesso errore dicendo a destra e a sinistra l'amore per qua e per là e non citiamo squadre minori, quindi Denis ha detto ripensare l'Atalanta, ma tu porca troia, tirati insieme Zara l'Atalanta, ma tu porca troia, tirati insieme i capelli li lascio lungo no, non rompete i coglioni guardate che io mi sento bergamasco ho imparato una parola ho la parte dei scherzi ho imparato una parola qua a Bergamo ormai la dico sempre che figa rispetto a quello che ha detto il vostro amico qua è stato un po' di confusione quello che aveva detto una settimana fa l'avete capito male è stato soltanto una battuta rispetto a un compagno un ex compagno che ha giocato qua nell'Atalanta non vuol dire niente io qua mi trovo benissimo l'ho detto un anno fa voleva dimostrare che questa piazza era importante insieme al gruppo insieme a voi siamo riusciti a trovare questa salvezza che è stato difficile e quest'anno voglio fare altri obiettivi non solo la salvezza sennò arrivare più lontano possibile che magari una coppa però l'importante l'importante è che io qua io qua mi trovo bene e sto facendo un ritiro importante insieme ai miei compagni voglio mettere in difficoltà il mister e giocare ancora un altro anno importante con la maglia dell'Atalanta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti